Il 27 gennaio di ogni anno nelle scuole si tengono lezioni e conferenze, ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, ovvero di chi venne discriminato da regime e di chi si oppose ad esso. Nella situazione attuale, che vede perpetrare una gravissima discriminazione anche ai danni di tanti studenti, tutto ciò ha il sapore di una recita ipocrita e di una beffa crudele. Con questa spiegazione molti alunni non hanno presenziato alle elezioni previste per oggi in segno di protesta contro illogici e inaccettabili provvedimenti, hanno spiegato i genitori, che hanno giustificato l'assenza per motivi etici. Ma attenzione, a voler scansare dubbi e critiche, precisano che non si intende paragonare quanto sta avvenendo in Italia in questo momento con un genocidio programmato all'interno di un conflitto mondiale che ha innescato atrocità sconcertanti e causato milioni di vittime innocenti. Viceversa, l'obiettivo è quello di denunciare il presupposto che rende possibile la scomparsa dello Stato di diritto. Gianluca, la vostra è una critica rivolta alle istituzioni pubbliche e non è un attacco alle singole scuole, ma che cosa denunciate nello specifico? È una forma di protesta pacifica e non violenta che alcuni genitori, senza colori e senza bandiere, diciamo così, ha pensato di portare avanti perché in questo periodo di evidenti diritti negati ai ragazzi, praticamente, dallo sport in cui i ragazzi in possesso del Super Green Pass non possono neanche più accedere agli allenamenti, ai luoghi di aggregazione, piuttosto che anche ai trasporti pubblici, così come il diritto allo studio che è ancora garantito, ma che prevede anche violazioni della privacy in caso di alunni positivi perché le quarantene sono diverse, però è un segnale che alcuni genitori hanno voluto dare perché in questo giorno della memoria che ricorda eventi nefasti che conosciamo bene, in questo momento molte delle cose che si denunciano, appunto ricordando quello che successe nel secolo scorso, vengono anche oggi perpetrate nei confronti dei ragazzi nel silenzio generale. Non è un'analogia, ha precisato il genitore, vogliamo solo evidenziare quello che sta avvenendo e cioè che ad alcuni ragazzi sani e addirittura con tampone negativo vengano negate tante attività. Secondo lei oggi che cosa dovrebbero insegnare la società e la scuola? Sicuramente al rispetto reciproco delle opinioni proprie e altrui e sicuramente che la discriminazione è sempre comunque qualcosa di sbagliato. Non è possibile che la scuola insegni che per essere bravi i cittadini si debbano calpestare dei diritti, appare tutto questo di natura più ideologica che sanitaria. Quando con la fede la propaganda di turno si legge nella nota dei genitori, si silenzia e si discredita il dissenso, quando si inaugurano sciagurate campagne d'odio, quando la massa dei più accetta un po' alla volta atti di segregazione e disumanizzazione sempre più sfacciati, allora gli esiti sono imprevedibili, quando nel nome di una verità supposta si negano i diritti costituzionali e quelli umani che li ispirano si dà il via ad un percorso pericoloso. Crede che ci sia superficialità nel bollarvi come mondo dei Novax? È molto superficiale e peraltro da altri punti di vista è anche molto comodo per chi va a bollare le persone, invece ognuno è una persona, un essere pensante come piace definirla a me, che ha una sua opinione e quindi un'etichetta che generalizza e rende tutti uguali è sicuramente molto sbagliata. Un po' come mi diceva veniva la lavagna tempo fa? Un po' come, sì, come il distinguere buoni e cattivi alla lavagna, cioè chi si comporta in un certo modo segue le norme che poi ripeto, la maggioranza delle persone non sta eludendo nessuna legge, nessuna normativa, quindi sta semplicemente esercitando un diritto che anche queste norme recenti consentono, cioè il non impossedere il super green pass non essendo un obbligo, comunque o comunque per quello che riguarda adesso gli over 50, a partire dal primo febbraio ci sarà una sanzione, per cui comunque sia nel pieno rispetto alla legge, molte persone accadute sono state sospese dal lavoro, quindi hanno preferito rinunciare al lavoro, quindi a disattendere l'articolo 1 della Costituzione piuttosto che non rispettare un proprio modo di essere, quindi sicuramente non ci sentiamo cattivi o buoni.